adorati eccomi qua come vedete oggi sono il mio charlie il mio principino questo è l'ultimo arrivato di tre figli adesso non ho quattro ciao vi saluta e oggi sono mi ho preso la giornata di festa con il mio charlino adesso usciamo andiamo a fare un po di shopping per lui e vi voglio sempre dire che sono la marchese di montragone sono la vostra si barco guardatemi e mettete tanto mi piace perché siete la mia forza diamo adorati